Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie della Ulissecraft Oggi con il cappello, perché... il cappello, la felpa ragazzi, come al solito, perché fa un freddo assurdo E sto pregestando un paio di video, quindi se vedete così, sempre uguale, perché uno fa freddo Due, devo pregestare i video, ho gli esami, è una cosa brutta, lo so, però devo farli E a parte questo, ragazzi miei, oggi voglio fare le missioni riguardanti la meccanismo Infatti, non abbiamo fatto quasi nulla della meccanismo, tranne giusto le cose che scegono di più Che sono l'energia e i cavi, ok? Però ci sono molte altre cose fighe Per esempio, questi demonstri dovrebbero essere prodotti, in realtà, con il nuovo reattore nucleare della meccanismo Che io non l'ho mai utilizzato, perché non l'ho mai utilizzato quella versione poi dopo, quando ho raggiunto il reattore nucleare E quindi, yeah, ci sta, secondo me, sia quello di fissione, sia quello di fusione Quindi potremmo vedere assieme quali sono entrambi, ovviamente la differenza è una In uno vai ad unire, compattando, diciamo, due atomi, nell'altro vai a separare un atomo in due parti Quindi funziona così, l'energia ricavata da entrambe le cose, energia, basta Che figo che cosa? Abbastanza, proprio veloce, chiaro anche al 100% A parte questo, quindi, dobbiamo farci un paio di cosette Allora, so che c'è una missione speciale che mi richiede in realtà di farmi Atomic Allo E che in realtà noi abbiamo già, e quindi non capisco perché dice di averlo Ah, forse è assolutamente action task, però non l'ho fatto più E ora c'è il quantum integrator popo, va bene Questo, che trasferisce i, che sarebbe in sostanza la stessa cosa, ok Che tra le del teser act e del transshiver Trasferisce, diciamo, liquidi, gas, perché è una cosa che può fare soltanto questo Perché la meccanismo trasferisce tutti i fluidi, che siano gas o liquidi, ok È una figata perché in realtà li utilizzeremo abbastanza spesso i fluidi Soprattutto per cose abbastanza interessanti, tipo Ci sono la quintuplicazione di materiali che si potrebbe fare Cosa che non facciamo al momento perché in realtà facciamo stato shifting Quindi non avrebbe senso Però avrebbe senso se facessimo magari un mondo Cosa che abbiamo già, in cui possiamo recuperare i materiali Però non lo facciamo perché non abbiamo voglia Ma in endgame vorrei creare un mondo apposito con tutti i minerali Che vi potrà aiutare Quindi perché no, si potrebbe anche fare magari qualcosa giustamente Che ci serve da recuperare, quindi perché no Ora, dobbiamo andare avanti Quindi ci serve un attimo farci un altro Richmond Chamber In realtà noi ce l'abbiamo qua, credo, Richmond Chamber Eccolo qua, e quindi bisogna farsi un paio di aggegini Allora, vediamo un po' cosa ci serve Ci serve fare un paio di cosette La Richard Redstone che si fa con il Compressed Redstone E immagino la Compressed Redstone dovrebbe essere, se non sbaglio Un Redstone Block Che tipo tu attivi e basta Non so perché mi è arrivato la sincronizzazione Vabbè, non lo so, comunque, sono sbaglio Ero uno di questo dentro al compressore Che era questo qua, il Chamber, diciamo E dovrebbe farlo? No? Ricordavo di sì, in realtà C'è una Resip sicuramente che mi dice come fare questa roba Forse era meglio cercarlo? No! Ah, un solo pezzo Oddio, pensavo fosse in realtà Soltanto il blocco intero Vabbè, un pezzo, vabbè Quindi questo lo possiamo fare Non mi ricordo in realtà effettivamente a cosa serve questo Compressed Vediamo un po', ce lo dirà sicuramente Per qualcosa servirà Ah, serve in sostanza da mettere qui Vabbè, cioè, mi fine ci sta E quindi, bello Ha il valore uguale? Sì, ha il valore uguale Quindi non cambia nulla Especialmente una cosa in più Che se vogliamo fare, possiamo fare Vabbè, nessun problema, direi Anche se è un pochettino inutile Eh, non dimmi che devo tanto craftarla, giusto? Mi sa tanto di no Devo passare la roba addosso Quindi, problema La meccanismo richiede che io abbia sempre degli oggetti in mano Per poter finire le missioni Sono tutte detection Quindi sicuramente va fatto Ok, dicevo È diamond E penso tutto quanto Quindi effettivamente mi servirà tutto quanto manualmente Allora Uno signore ce l'abbiamo Un diamante Possiamo farlo subito al richied Quindi A meno queste parti Ce le siamo tolte Che sono una facilità assurda Quindi, ok Questo fatto Perfetto Ah, me l'ha polverizzato Pezzo di merda Come fa il richied? Forse direttamente come uno di questo? No Come faccio le richied? Non lo fa Va bene, va bene Vediamo magari gli schiama in modo diverso Però in realtà dovrebbe essere giusto Allora A proposito Ho fatto l'aggiornamento ragazzi E giustamente mi stanno le missioni qui La cosa brutta è che Iata c'è un nuovo libro Però noi non lo possiamo ancora utilizzare Perché? Perché semplicemente non ha senso utilizzarlo Infatti le missioni bisogna rifare tutte all'inizio E la cosa non si può fare al momento Perché sarebbe abbastanza subito Quindi magari perché effettivamente inizia a giocare da adesso Ha il nuovo libro Io ho ancora il vecchio libro Della E 2M Perché adesso c'è la better questing mode Ma se noi abbiamo la hardcore questing mode Quindi è semplicemente questa cosa cambiata Però al fine le missioni sono sempre le stesse Credo Forse qualche missione in più lì Però in realtà sono sempre le quelle Quindi vediamo un attimo assieme Stavo dicendo Come si fa invece l'altro Che è il richied obsidian E è molto efficiente per metallurgic infuser Quindi tipo è più efficiente Forse per quello che effettivamente si fa questa cosa E no non me lo dice Cioè mi fa alcun Ah non dico Aspetta non dimmi che devo farmi uno di questo refined Ah ok 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 Quindi mi serve un refined Che noi non abbiamo qui dentro Non so se abbiamo qui dentro Vediamo un po' No Quindi devo forza andare Effettivamente adesso hai l'energia Andare qui esattamente E mettermi tipo adesso qui dentro Vi faccio vedere un compressor Vedete mi dà tipo 8 di Di diamanti Invece di utilizzare Tipo 8 diamanti Per farmi avere 80 Ne uso uno Compressato diciamo E mi dà questa roba Quindi è abbastanza carina come cosa Diciamo che è abbastanza utile E ci sta Dovrei un attimo poi Sistemare un po' i cavi E infatti sapete cosa farò dopo Vado un attimo a farmi vari cavi oggi E andiamo a sistemare Perché vorrei utilizzare i cavi Ultimi ultimi della meccanism Non utilizzerò quelli infiniti Perché al momento Effettivamente l'energia che voglio trasferire Non deve essere infinita Va bene Non è diciamo una cosa Così che mi serve Vorrei quindi utilizzare i cavi di meccanismo Perché sono quelli più compatibili Tra loro Quelli della thermal invece Non hanno qualche problema Magari Con qualche macchinario Quindi preferisco utilizzare loro Comunque dicevo Quindi questo qua ragazzi Si può mettere qui dentro E funziona allo stesso modo Quindi compressato E funziona meglio Quindi GG Alla fin fine È buono Lo si dà una valida Davvero 8000? Vabbè quella col diamante Giustamente sì Quindi è giusto Ah sono sempre in studio Perché metto la roba qui dentro Quando vi do ricordo a me Che devo tenere sempre l'inventario Dopo magari ne vado a aprire Un paio di questi Cosi di cosadrono Perché mi saranno davvero un casino Quindi perché no Il PCR Pressurized reaction chamber Eccolo qua ragazzi Vi dicevo Che c'era La reattore in sostanza E come dice Questo item sarà usato Per creare un reattore Quindi il PCR Bisogna fare il pressurized Pressurized chamber Devo trovarlo Eccolo qua E si crafta in maniera Un pochino complicata Allora abbiamo quasi tutto Necessario Queste parti ce l'abbiamo Sicuramente Questo dynamic tank Si fa semplicemente Con dello steel E un secchio Quindi facilissimo A 100% Forse il vero problema Sarà fare i basic tank No anche qua sono facili Ok Uno Ovviamente questi non si possono staccare Perché sono dei tank basilari Per contenere dentro i fluidi O in questo caso i gas Perché non interessa sia il gas E poi Mi manca Soltanto da fare Un altro enrichment chamber Che posso già fare Ho già tutto Infatti mi manca solamente Credo questa parte dei casin Che possiamo fare In qualsiasi modo vogliamo noi Però in realtà Sarebbe stato meglio Utilizzare altre cose Vabbè comunque L'importante è che adesso ce l'abbiamo E è pronto Da essere usato Quindi va bene PCR Fatto Oddio santo Ah non Si Ovviamente non me lo prenderà mai Perché Il solito problema della meccanismo Alcuni macchinari Non li metto in automatico Qui dentro Quindi dovete farlo voi manualmente Ok PCR fatto Questo qui ci servirà Per il nostro reattore Poi ve lo faccio vedere Per ora non credo Me lo chieda di fare Quindi Almento Sti cavoli E Vabbè Questo qui Insomma vedremo un attimo Come farlo Perché è una cosa che non so fare Questa parte Quindi Ecco cosa di nuovo per me Vedremo Nel frattempo La refined Obsidian Ce l'abbiamo Anzi ce l'abbiamo Due di refined Vabbè Siamo detto Obsidian Anzi Non mi sa che non ce l'ho Quindi devo forza andare E finalmente Da capo di energia E andare a cuocere Poi perché va fatto insieme E il lingotto Mi sa proprio che Non posso nemmeno cuocere Normalmente Perché devo forza Fettolo credo Nel Nel coso lì Nell'enrichment Probabilmente Per farlo diventare figo Non Quale enrichment normale Un altro Comunque L'importante Che si usa Comunque Per esempio Qui che abbiamo L'energia della mecanismo Dobbiamo cercare di sistemarlo meglio Perché vorrei più energia E che l'energia passi Senza problemi Così non devo Fare chissà Quale Quale blocco Assurdo di roba Che magari non funziona Quindi meglio Evitare E allora La refiner ce l'abbiamo E a proposito Aspetta Lo mettiamo qui dentro Così la possiamo insegnare Perfetto Il PCR in realtà Non ci interessa Shift con M Possiamo vedere Vediamo che tipo Processa liquidi Solid e gas Per creare Altri prodotti Giustamente E vedremo come fare Non preoccupatevi Per il momento Diciamo quindi Refined Obsidian Dust E devo trasformarla In lingotto Come si fa In lingotto Che nell'osmium compressor Quindi avevo ragione Che si usa quindi Dell'osmium Come solido Come solido Sì come solito In realtà E il compressor Noi ce l'avevamo Perché l'ho utilizzato Per una cosa Forse l'ho levato Sapete Possibile Compressor No si ce l'avevo Perché l'ho utilizzato Forse Ah no Non l'ho fatto Probabilmente Possibile Vabbè Comunque devo potenziarmi Un attimo I nostri piccoli circuiti Allora E che mi servono questi Eccoli qua Due di questi E sono bello Si fanno proprio Con l'ossidiana Giusto Se ricordo bene Vediamo un po' No ok Facilissimo Scherzavo Si vede che L'ho fatto Già Ma non lo riuso ragazzi Vabbè Mi sembra di averlo già fatto Forse Mente mi viene adesso E quindi Buh Cose del genere Ovviamente io mi sono C'è di macchinari standard In realtà noi dovremmo Utilizzare che cosa Gli elite Creare l'elite In realtà Se deve fare tutti I vari passaggi Vedete Di queste cose Però fidati Una volta fatti questi qua Non c'è più storia C'è proprio Cose bellissime ragazzi Si vanno a creare Ovviamente Sempre i circuiti di sotto Il vero problema È che ora mi chiedevo Dovrei cambiare i conduit O i cavi anche qui Credo di sì Perché questi cavi 32.000 Ok Bastano per il momento Ma Preferibilmente Sarebbe Meglio farne altri Per Non so Per essere sicuri Al 100% Mi sa che Ho un problema Perché quello voleva Forza che lo avessi in mano Ovvero No A detection task Perfetto Quindi non se ne frega Benissimo Dai Dai Dammi bello Ok Quasi Un migotto e mezzo Tipo più o meno Per farlo Quindi va bene Facciamo la reward Anche di questo E ci siamo Fatto Ok Ora Ci ha sbloccato Da questa parte Tutto Mi manca Soltanto Il digital miner Che sarebbe Un Non so Come chiamarlo È un Piccolo robot Ok Che va a minare La roba Va bene Però ovviamente Il nostro mondo È inutile Perché Perché il nostro mondo È fatto di stronzate Quindi Digital miner Qui è abbastanza inutile Non so se hanno cambiato i crafting Li hanno cambiati i crafting Col teleportation core Oh mio dio È un pochetto da stronze Diciamo Perché Ci sta Però vabbè Tanto non abbiamo problemi Perché il dato mi callo A me non ho valore Quindi li possiamo fare Quanti ne vogliamo noi Ovviamente In vanilla Non è per niente Cioè in vanilla In versione basilare Non è per niente così Filatevi È molto più facile Ed è utile Perché tipo È una delle cose più veloci Da fare Per fare cose Oh mio dio Personal chest Pure Che pale Quanta roba Mi vuole far fare Vabbè Comunque È un pochetto Palloso Perché tanta roba Mette insieme Ragazzi Perché Sono davvero tanti Oggettini Infatti Cioè robit E robit ci può seguire Tipo ha anche un inventario E coprileggiti per terra È un tipo un robot Tutto fare Però è abbastanza inutile Perché a lungo andare Vi darà più scocciature Che il resto Quindi vi consiglio Di non farlo Perché magari All'inizio dice Oh che bello Il robottino che ci segue No Robottino palloso La chest Era come la chest La chest tipo Che ci seguiva Della Di che mod era quella Non me lo ricordo Che era bello all'inizio Sì Però a lungo andare Dicevi che palle Sempre mi seguo questo Eh madonna Eh vai via robot Eh cose del cedere Dovrei avere tutto il necessario Mi sa Forse soltanto questa qui Non ce l'ho Giustamente perché mi serve Fare un paio di questi Ne faccio un paio Perché sicuramente Mi serviranno al prossimo crafting Lo so già E quindi Bam Ne facciamo due Abbiamo il robottino Abbiamo adesso il digital miner Che sarebbe il robottino Dentro a un coso che mina Quindi facile Ovviamente Stessa cosa per il robit Essendo tipo Metà diverso Non lo prende nei crafting Brutta cosa Brutta cosa Digital miner Si può mettere per terra Ve lo faccio vedere E cambiare la texture Molto più bella adesso E' evidente Sembra proprio un computer E per settarlo Servono varie cose Però non ve lo faccio vedere Perché insisto Non ha senso qua Quando lo utilizzeremo in futuro Ve lo farò vedere meglio Vi spiegherò come funziona E magari qualcuno di voi Che è interessato Alla meccanism Che è uno delle mie mod preferite Dopo la thermal Dopo la tinker Non va dopo la thermal Perché è tipo bellissima Produce un sacco di energia Fa un sacco di cose belle Ha molta chimica dentro Quindi è tipo stupendo Quindi lo faremo sicuramente E abbiamo fatto quindi Anche il digital miner Va benissimo Un paio di missioni Li stiamo completando facilmente Anche perché A fine sono facili La vera parte più difficile E più lunga In realtà sarà Questa qua centrale Perché mi fa fare Tutti i cavi di ogni tipo Infatti esistono Diversi cavi universal Ve lo fate vedere Quelli iniziali Ragazzi di universal Anzi quelli basic Devo scrivere direttamente Perché mi serve proprio quelli Quindi dei basic In realtà ci sono vari tipi Allora questo è l'energia L'abbiamo già fatto Poi ci sono questi qua Mechanical pipe Che trasferiscono Sia liquidi Che fluidi In realtà Per questo caso In realtà Soltanto la meccanismo Sono liquidi E trasferiscono tipo Vedete qua Pump rate di 1000 Quindi è come il cavo finale Della Indrioh Per quello vi dicevo Effettivamente questi sono meglio Quindi ci sta E quindi abbiamo questi Poi ci sono questi qui Basic Che riguardano tipo Soltanto Non i liquidi Ma i gas In questo caso Vedete c'è scritto anche sopra Cosa trasferisce Ovviamente in forge Ci sono varie cose Che potete utilizzare Varie diciamo Strutture e dati Va bene Facciamolo in questo caso Quindi ci sono gli item C'è l'energia Ci sono i fluidi E poi ci sono i gas Che c'è la meccanismo E questi qui servono Proprio per la meccanismo Si fanno allo stesso modo Stanto con un gas centrale Quindi GG E questi sono i basic Quindi vedrete in futuro Quanto bisogna fare cose Poi abbiamo questa cosa Che è sempre dei gas Che abbiamo già fatto In realtà questo qui Dei gas Ci sta quello Logistic transporter Che è diciamo Diverso Però Per farla A breve È un sistema logistico Che funziona come Più o meno Logistic pipe Più o meno E poi ci sono questi qui Che trasferiscono Invece il calore E questo è molto simile In realtà A una cosa Molto molto importante Che diciamo Non c'è in questo modpack Che è la nuova IC2 Sfortunatamente non c'è Non l'ho vista A meno Quindi non credo ci sia E quindi possiamo trasferire Addirittura il calore Da macchinare all'altro È utile Perché Diciamo effettivamente Potrebbe servire per qualcosa Non so se funziona Per esempio Sulla railcraft Sul suo Diciamo boiler Però In realtà Giustamente dovrebbe essere così Può essere utile Questa cosa Per esempio Per quanto volete Trasferire il calore Da un macchinario Al macchinario Il salinatore Che tipo Crea il sale E cose del genere Che serve proprio per i gas E serve per la quintuplicazione Quindi Sicuramente Uno di questi cosi È utile Per tante cosette E così Abbiamo finito ragazzi I basic Quindi GG Ora Vi si va avanti Il generator Vi dicevo ragazzi Come funziona Questo produce Energia In questo caso Non energia Produce calore E quindi possiamo utilizzarlo E ce ne sono di vari tipi Credo L'it generator Utilizza tipo I materiali Il coal E cose del genere Per poter creare Ciò che volete Quindi Sta a voi Puoi scegliere Come fanno funzionare Ve lo faccio anche vedere Perché questi Li uso davvero veramente Poi sono cose nuove In realtà Quindi l'ho usata Forse qualche volta E basta Vedete Produce calore Come Semplicemente Possiamo anche scegliere Come roba Possiamo vedere addirittura Tipo I Fahrenheit Va Fahrenheit Fississimo E credo Utilizzi energia Per creare calore Davvero Vediamo un attimo Magari lo attacchiamo Effettivamente A nostra energia Tanto qui possiamo fare Tutti i crafting E vi faccio vedere anche Come funziona Così magari Li imparo anche io Qualcosa di nuovo E figo Mettiamolo qua per esempio Non prende RF Forse Cioè crea calore Dagli RF Probabilmente Mi sa tanto di sì Ovviamente bisogna sistemarlo bene Mi sa che forse si mette così Aspetta Devo sistemarlo in un certo modo Perché ovviamente ricordatevi C'è sempre un ingresso Per i cavi qua E quindi possiamo metterci Un qualsiasi liquido Che crea calore Per creare Effettivamente Energia Che è una figata È tipo Il liquid Liquid Sì sì Il liquid Dell'Enderio Però Quello dell'Enderio Va su tanto Certi liquidi Non tutti Per esempio Il calore Va benissimo La lava Giusto per iniziare Poi c'è questo altro cosetto Che in realtà Advo e sincero Non so a cosa serva Quindi lo scopriremo adesso Insieme Magari è meglio Farsi un paio di case Perché sicuramente Serviranno Ok E dice Fuelwood Vediamo un po' Cosa serve Produce quindi A calore Ovviamente Bruciando combustibile Quindi funziona Come vi dicevo prima Quindi in questo caso Che cosa diamine ho scritto Oh mio dio Ho variato Scusatemi Quindi per esempio Ci mettiamo dentro Che ne so Qualsiasi cosa Che può bruciare Del coal Vabbè Proprio facile Infine E produce Calore ragazzi Perfetto Fuel scende Ovviamente E la temperatura aumenta Molto utile Se magari fate una farm Di alberi E potete utilizzare Questo per far cose Quindi gg Ah comunque La missione mi chiedeva Tipo 3 di fuel Già fatti Poi c'è questo qui Con lo finale Resistive Giusto Mi sembra di si E questo immagino Che utilizzi Adesso invece Che cosa Converte Ok Converte l'energia Questo direttamente In altre cose Quindi il primo Era liquidi Il secondo Era invece Fatto di Cosa Come si chiama Magizia Mi viene il nome Vabbè Avete capito Comunque Di liquidi No Di oggetti E il terzo Invece Utilizza addirittura L'energia Completamente Per fare cose Ovviamente Mi sembra una batteria Come al solito Il super heating Che invece Si fa sempre Con il casi Quindi gg E adesso E adesso ci facciamo Quest'altra cosa Tac Fatta Ok Eccolo qua Quindi se per esempio Lo mettiamo vicino A un cavo energetico Vedrete che inizierà A creare Roba Mettiamolo qua Per esempio Ok L'ho sbagliato No Dovrebbe essere giusto Ehm Ah beh Lo prende comunque Vedete Prende l'energia A parte che consuma Un sacco di energia Però sta producendo Un sacco di Fahrenheit E va bene Però peccato Che sia in Fahrenheit Non c'è Ah In Kelvin Ah Gradizial Quindi siamo a 50 gradizial Ragazzi E usa 100 RF per tick Tanti per noi Ma in realtà sono pochi Non so perché Ci prendono tutti questi problemi Dovrebbe attaccarsi comunque anche qua In realtà Vedete qua Sempre preciso Contento 100% E quindi possiamo addirittura Dargli un nome Cos'è Ciao No Non so esattamente Cosa può fare sta cosa Vabbè Comunque l'importante È che utilizza un sacco Di energia Per fare roba figa Quindi Che bello È abbastanza carino Però al momento Non ci serve Insisto Quando avremo i salinatori Lo utilizzeremo A voglia A voglia Anzi Non riesco questo Perché in realtà Noi siamo Siamo nel deserto Quindi Forse non serve Ora che ci penso È vero Noi siamo nel deserto Sì quella è neve Ma siamo nel deserto Fidatevi Quindi il sole C'è Però Non lo so Magari ci chiederà di farlo Quindi perché no Abbiamo fatto già questa cosa Che sarebbe il crusher Che ho usato per fare altre macchinari Poi c'è il rotor power Che utilizza Il biofuel In sostanza Quindi tutto ciò che può fare il biofuel Lui fa energia E quindi Biofuel generator Eccolo qua Biofuel generator E utilizza In sostanza sta roba Che è il biofuel Che si fa nel crusher Con apple Tutto ciò che è lì E il fuel Ragazzi nel crusher Ti dà biofuel Quindi tutto quanto E probabilmente Utiliserò delle apple Perché mi va Sinceramente Ne ho due Perfetto Andiamo quindi Verso la nostra casa E andiamo a utilizzare Queste bellissime Fantastiche cose Il mio crusher E Qua Non c'è il crusher Qua Scusatemi Eccolo qua Ricordavo di averlo Un crusher Perfetto Quindi questo Manderà la roba Direttamente dentro lì Biofuel GG Vedete me ne fa già 4 In realtà c'è un'altra cosa Del biofuel Anzi no In realtà credo sia questo Soltanto modificato Mi sa il biofuel Perché in realtà C'è un altro macchinario Mi sa che è lo stesso Però adesso modificato È reso più bello Forse Vabbè L'importante è che funzioni Quindi biofuel fatto Eccolo qua Benissimo Quindi quest'altra parte è fatta Ovviamente Molte delle cose le abbiamo già fatte Perché i solar panel Le abbiamo già fatti Questi qui speciali Non li abbiamo fatti Che sono gli advanced Però alla fine Non l'abbiamo fatto Tanto perché il solar generator Ce l'avevamo già Non abbiamo fatto l'advanced Perché era un pochino Più palloso da fare Quindi ho detto Ah non lo facciamo Perché non avevo voglia In realtà Perché sono una persona pigra E mi sa tanto Che bisogna anche di fare I cosi Glass Quindi mi tocca andare Un attimo qua Glass Dobbiamo farci quindi Quest'altra cosa Abbiamo detto quindi Che ci serviva Il solar panel Quello grande Quindi facciamoci un paio di questi Per iniziare Uno Due Tre Mi sembra che ne servono tipo Quattro per fare quello finale Giusto quindi Dodici per ora Così giusto per essere sicuri Ok E quindi facciamo Il solar generator Questo non solar generator Non sono solar panel Quindi avevo ragione Che erano quattro Ce ne facciamo Uno Due Tre E quattro Perfetto E ci facciamo Uno di questo ragazzi Ovviamente Stessa cosa del meta Qua non funziona Perché sono batterie Sfortunatamente E tac Abbiamo il generatore avanzato Questo produce Più o meno Quante energia produce Un wind Più o meno Si diciamo Giù di lì In sostanza Non vi devo far vedere La spiegazione ragazzi Perché sapete come funziona Un solar panel O almeno si presuppone Che ve lo sappiate Ok questa parte l'abbiamo fatta Ora manca la parte Delle advance Quello che abbiamo fatto prima ragazzi Lo possiamo fare ancora di più Perché ci sono Le cose avanzate Abbiamo già fatto Gli advanced Di quelli Universal Cable Di energia Potrà sferiscono Cento No Aspetta Sono gli advanced Sono questi Sono dodici Mila Aspetta C'è un bug C'è un bug In realtà Perché Dovrebbe Essere giusto Scusami Aspetta Aspetta C'è un problema Ah no 12.8 L'altri erano 3.3 Scherzavo ragazzi Scherzavo Dicevo quindi Poi duno la stessa cosa Però sono uguali A quelli precedenti Si fanno sempre con Otto di quelli precedenti Più quelli Successivi Con un relic shed Quindi funziona Allo stesso modo E visto che abbiamo fatto Comunque 8 per tutti Perché quelli iniziali Si fanno sempre con 8 Tutto il resto Sarà facile da fare Ragazzi Come potete vedere Quindi è una cazzata Abissale Especialmente sono Delle versioni Upgradate Degli altri capi Che ho spiegato prima Quindi funzionano Alla stessa maniera Fatto Ora Ci sono gli altri Ci sono gli elite E poi ci sono quelli finali Ragazzi Che sono gli ultimate Gli ultimate sono quelli Che andiamo a utilizzare Di più Perché Cioè Volete mettere Prefiscono gli ultimate Di gran lunga E il vero problema Che abbiamo al momento È che Dobbiamo potenziare Alcune cosette Perché in realtà Per fare gli elite Ragazzi Abbiamo bisogno Di farci Sempre quelli di prima Però con le riforze d'alloi Che si fanno con il diamante E le ricce d'alloi Quindi servono Degli ricce d'alloi Vediamo un po' Se ce l'abbiamo Eccoli qua E un diamante Noi abbiamo già un diamante Qui ad energia Quindi possiamo sfruttare Questa cosa Per farne soltanto Uno Uno veloce Così almeno ci leviamo Il fastidio Giusto per iniziare E questo qui Che andremo a creare Ragazzi miei Che succede Especialmente Tipo Lo possiamo stupicare Perché comunque Questo ha un valore In teoria anche Questo ha un valore Quindi GG Ovviamente il valore È tipo quello precedente Più un diamante Perché Si fa così Che poi è un cheat Perché Se ci pensate Possiamo utilizzare Dell'energia Per farci Del valore di MC Perché questa cosa Perché Qualcosa abbiamo fatto Abbiamo utilizzato ragazzi Compressato in un diamante Quindi 8000 Mi fanno 8x8 Quindi 64000 È un bug Più glitchoso Diciamo In realtà forse È anche più veloce E più bello Dell'altro Quindi potremmo fare Una nuova farm Con la mecanism Un glitch degli MC Fantastico Quando scopri le cose belle Quindi Dittimi se mi piacerebbe Come idea Non l'ho visto da nessuno Perché in realtà Questa cosa forse Accade soltanto qui dentro Dove hanno messo dei valori Magari anche a questi Però Va bene Perché al fine Ci sta bene così ragazzi Quindi ok Elite Ho sbagliato a scrivere Ti pareva E quindi si fanno Quelli precedenti ragazzi Completati qui Questi producono Trasferiscono anzi 64000 Quindi 600 No 64000 Che sono 640.000 RF per tick Sono tanti ragazzi Sono tantissimi Tipo Uno dei nostri Generatori da 12 Produce Quanto può trasferire Uno di quello Quindi è perfetto Più o meno In realtà Produce forse anche di meno In realtà E il resto ovviamente Si fa allo stesso modo Vi faccio vedere Che quello dei liquidi ragazzi Adesso pompa tipo fuori 100 No 16000 Quindi tipo 16 bucket a tick Che è un casino È un casino Però noi non produrremmo mai Abbastanza di quel tipo In realtà Non lo so Perché avevo intenzione Di farmi qualche altro liquido Perché sarebbe interessante Ovviamente Per gli ultimi ragazzi Che cosa servirà Serviranno questi I nostri atomic Quindi questi Quindi questi Qui li faccio già subito E quindi dopo gli elite Ci sono i Gli ultimate Quindi gli ultimate Eccoli qua Che si fanno Allo stesso modo Questi trasferiscono il massimo 320.000 Ehm No sono 3.000.000 E 2 Eh sì Sono 3.000.000 Di gas Che anche questo Un botto ragazzi Perché poi vedete Quanto gas Produciamo E poi questo Stessa cosa Per i logisti Che vabbè Non ci interessa Nel momento Ma va bene E poi vabbè Questi finali Che sono quelli del calore Che in realtà Ehm Non c'è scritto Efficiente Quanto trasferiscono Però E' sempre la stessa cosa Funziona di più Trasferiscono più calore Velocemente Più che altro Non tanto più calore Perché calore è sempre quello Quindi è giusto Va bene Fatto queste missioni Adesso siamo completati Quasi tutto Della meccanismo Mi manca solamente Di questa parte qua Finale Del quantum E il quantum Come ho già detto La prima volta che lo faccio Quindi non so nemmeno Il crafting qual è A parte che sarà diverso Ed è un pochetto Una palla Perché bisogna farsi L'ultimate controller Sequit Che si fanno con Tutti i vari potenziamenti Quindi bisogna farsi Uno di questo Bisogna farsi l'altro Potenziato Che palla vita Ehm Adesso ci abbiamo tutto Mi sa Sontanto questo Mi manca giustamente Quindi ce lo facciamo Perfetto Ha un valore Sì Meno male questo ha un valore Quindi ci facciamo Un po' tutto Uno di questo Perfetto Poi Bisogna farsi Un altro di questo Che sono in sostanza I controlli Centrali Sempre migliorati Con tutte le altre cose accanto Eccolo qua Quindi ci facciamo Uno di questo Adesso bisogna Stato prendere Giustamente Un paio di questi Facciamo tanto gli ultimi Perché tanto sti cavoli Il resto poi li facciamo Magari manualmente Quando avremo bisogno Davvero di quelli E tac Quantum Entlogger Qualcosa Non lo chiameremo Perché non ha senso E adesso Vediamo un po' Questo qui Com'è Ah E' carino E' bello E' figo Da vedere E' privato Pubblico Va bene Può trasferire di tutto Quindi funziona Come un normalissimo Quarry Ok E' tipo Un pochino bello Da vedere Non so se Tipo quando Sce energia Si vede qualcosa Altro d'entro Però Sembra bello Quindi Va bene Questa parte Adesso Il demon steel Voglio vedere Come si fa Perché non ho idea Si fa steel Eccolo qua E' Il problema è che Non so come si fa Esattamente Si fa Demon steel Magnitude Ok First magnitude Oh mio Quanto costa Questo ragazzi Un casino Vabbè Comunque il primo Bisogna prendere Si fa col Temperio essence Che si fa Con il Master infusion Stone E Questa roba Azz Quindi è tipo La parte Successiva a questo Però visto che Non l'abbiamo ancora Fatta Perché in realtà Noi l'abbiamo fatta E' vero Però non ancora La lasciamo perdere Però andiamo ad aprire Magari le reward bag Che abbiamo Quindi tutte queste Reward bag Che abbiamo qui E oltre questo C'è un'altra Prima magari anche Qualche cosa Edron Ne abbiamo 13 Ne apriamo tipo 4 per il momento Comunque la puntata Prossima puntata Andiamo a fare Un po' di botegna Così ci leviamo la botegna E con quella cosa Poi startiamo subito Con queste cose Fighissime Che sono endgame Non so se abbiamo Sbloccato qualcos'altro Vediamo un po' Abbiamo sbloccato Tante altre cose Ragazzi abbiamo sbloccato La eta Che è tutta l'uplied Quindi anche i liquidi Dell'uplied Bello perché in teoria La L'uplied dei liquidi Dovrebbe contenere Anche i fluidi In teoria In pratica non lo so Poi abbiamo La teta Abbiamo già fatto Abbiamo la iota La iota E finalmente ragazzi La possibilità Di andare su altri mondi Quindi ci andremo In realtà tipo Viaggi spaziali Quindi avete chiesto voi Nei commenti di farlo E lo farò E che altro Non lo so Penso che pian piano Andremo avanti A fare altre cose Comunque le quest Non andavano seguite Tutte manualmente Ragazzi Perché alcune cose Non possiamo farle Tipo in un certo senso Poi alla fine Previsco far così Perché mi piace di più Quindi andiamo verso Il nostro posto Andiamo ad aprire un paio di bag Eccoci qua Allora Vediamo un attimo Di aprirle ovviamente In ordine Come solito Quindi basic Good Recreiter Leggendari dopo E le epic Perfetto Quindi per ora Lasciamo le leggendari qua Allora iniziamo con queste subito Florb Che vabbè può essere utile Altre cose stupide Che dobbiamo piazzare Per terra ogni tanto Decorazioni Basic bean Zanite Questo abbiamo già visto Orb processing Tier 1 di cose fighe Va bene Poi Abbiamo questa roba Di chanting Alchemical coin Che bello Core sample drill Che servirà invece Per fare tipo Sempre il mining Però relativo tipo A La immersive L'immersive addirittura Ha tipo un suo digital miner Diciamo così Che è figata Da vedere Perché è bello estetico Divicio boots Bello Questa roba è inutile E le pozioni Vabbè sono cose più o meno inutili Che terremo Quando avremo voglia Di far cose più o meno inutili Quindi Per ora va bene Ho buttato le leggendari Lo so già Lo so già ragazzi Ora le vado a prendere subito Aspettate Ok questa roba le buttiamo Allora ho buttato un attimo Le reward bag Qui leggendari E quindi mettiamo queste epiche Queste leggendari qui E ho buttato anche I due cosaedron Giustamente Quindi due cosaedron Eccoli qua Due li prendiamo E siamo a posto Allora vediamo un po' ragazzi Reward bag Oh questa struttura Che abbiamo ancora sponato Quindi quasi quasi potremmo farlo E un caos ingot Oh mio dio Non so a che serve in realtà Non lo dice Non si sa nemmeno come si crafta Bello È tipo inutile quindi Un piromancer staff Oddio Wow Figata Aspetta Puoi anche buttare I blades Ok E un cuore totale Bello ragazzi Quindi questo si può utilizzare Però tipo si cambia la cosa Non so come funziona esattamente Però è figo Guardate quello zombie stupido Che va verso di lì E torna indietro Bravo zombie stupido Vabbè Andiamo ad aprire ragazzi Di cosaedron E poi vedremo come fare Magari Facciamo sponare questa struttura Vi faccio vedere com'è la struttura Ed è una struttura con All'interno tipo alcune trappole E questo del genere È proprio stupida come cosa Non ve l'ho fatta vedere ancora Perché in realtà Non ho avuto mai la voglia Il tempo di vederla E ovviamente Sono finito sotto nel buco Perché questo è un pavimento Fatto a illusione Mi raccomando Vado a tenere a questa cosa Dovrebbe esserci qualcosa Da qualche parte Tipo in teoria qui sopra In genere c'è sempre qualcosa Però qui non c'è niente Quindi è uscito un po' male questo Forse qua c'è qualcosa Non c'è niente Quindi è una bellissima cagata Bestiale Vabbè andiamo ad aprire quindi Due cosa Edron Uno di qua Eccolo qua Uno accanto Speriamo qualcosa di bello In realtà non dei creeper forzuti Che ci vogliono fare il culo Quindi si spera Però non credo sia il caso Speriamo Spero nemmeno nel K Che fa esplodere tutto Perché non sarebbe bello Ok Ah Merda Abbiamo Un blaze Cioè un ghast invisibile Che è appena morto Vabbè cosa abbastanza stupide Vabbè ragazzi Io per il momento vi saluto Vi ringrazio Stati con me In questa lunghissima puntata Che vi ha dato un po' La spiegazione di molti macchinari Della meccanismo Ditevi se vorrete vedere Effettivamente la meccanismo In azione Che è una delle mie mod preferite Insisto E quindi Noi ci diamo presto A un nuvissimo video Ciao ragazzi Noi ci diamo presto